Sì, ora glielo dico io. Qua, qua, ok, va bene. Lo sentite qui non faccio. Il tiro non faccio, no. Vincolo a... La vedi, regale, non fa solito perché era un problema. La vedi, regale, non fa solito. La vedi, regale, non fa solito. La vedi, regale, non fa solito. e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi salutiamo gli amici. Salutiamo tutti. La mia famiglia, Nindi, che prepara la macchina al top. A Rocco lo ringrazio perché... Grazie a lui sto capendo la guida. A Rocco è il tuo perfino. E ci vediamo a Manno. Bene. Grazie a tutti.